In questo video andremo a mostrare le nuove funzionalità della app LG ESGCP. Questa app è un nuovo strumento per l'apertura e la gestione dei casi di richiesta di assistenza tecnica per le batterie LG Energy Solution. Quindi, l'app è facilmente scaricabile da App Store o Play Store. Quando aprite l'app per la prima volta, questa è la pagina di accesso. Come vedete è possibile effettuare l'accesso da installatore, da padrone di casa o da ospite, ma solo previa telefonata al servizio di assistenza LG che vi fornirà un codice e una password per i non iscritti. Noi consigliamo sempre agli installatori di aprire i ticket e di effettuare le comunicazioni con i nostri colleghi del servizio tecnico. Questo perché gli installatori, a differenza dei proprietari di casa, hanno sicuramente una conoscenza maggiore e quindi possono descrivere meglio i problemi. Quindi, effettuate il login con l'indirizzo email e la password dell'account che utilizzate come installatore certificato LG Energy Solution. Quindi, l'account con cui avete guardato i video training e ottenuto il certificato di installatore, appunto, certificato LG S. E' lo stesso account con cui effettuate la messa in servizio delle nostre batterie. Una volta effettuato il login, se è la prima volta che vi state approcciando a questa app, vi verrà chiesto di creare un pin. Vi verrà chiesto anche di creare altri tipi di blocco, sblocco e accesso. Sono le classiche modalità come, ad esempio, l'impronta digitale, il riconoscimento facciale, eccetera. Quindi, create il vostro pin, ricordatevelo, il pin ha sei cifre, per cui c'è questo secondo livello di accesso. Di questa app esiste anche una versione web, il nome è lo stesso, quindi LG S.GCP. Per quanto riguarda il login sulla versione web, lì c'è una doppia autenticazione, nel senso che prima dovete effettuare l'accesso con la vostra mail e la vostra password, sempre come installatori certificati. E poi vi sarà inviato un codice generato random alla vostra mail che dovete inserire nel secondo step di login per effettuare il login anche dal PC. Noi comunque consigliamo di utilizzare lo smartphone e vedremo perché. Lo stesso profilo, quindi lo stesso account, può effettuare il login anche su dispositivi diversi. Basta che appunto le credenziali siano quelle giuste, quelle di installatore certificato. Questa è la home page della app GCP. GCP, vedete che ci sono diverse icone, andiamo a vederle più o meno nel dettaglio. In alto a destra vedete che c'è l'icona di un orologio con una cartella con una notifica 1. Qui ci sono i moduli di richiesta servizio salvati ma non ancora inviati. È possibile creare un modulo ma se ci si accorge che manca un'informazione, è possibile salvare quel modulo, recuperare l'informazione e inserirla in un secondo momento. C'è anche un'icona con un calendario in cui è possibile in collaborazione con LG NG Solution pianificare una visita dal cliente. E poi c'è la classica pagina del profilo in cui potete appunto, qui ci sono tutte le impostazioni generali del, classiche del profilo. Vi lascio qualche secondo su questa pagina in modo che potete salvarvi la mia mail. Io sono pugliese, chiocciola lgnsol.com Bene, andiamo al cuore di questo video tutorial. Tornando alla home, vedete che al centro ci sono 4 icone che sono richiesta di servizio, stato del servizio, visita dal cliente, installazione della batteria. Concentriamoci sulla prima. Qui vedete che il tipo di chiamata può essere di diverso tipo. Naturalmente il più utilizzato è richiesta di questo batteria, ma si può selezionare anche supporto tecnico. Come vedete ogni volta che selezionate un tipo di chiamata si aprirà un elenco di voci che voi dovrete compilare. Per supporto tecnico le voci obbligatorie, sono quelle con l'asterisco rosso vicino il titolo della voce, sono il modello della batteria e basta. Praticamente il nome dell'installatore è il telefono perché questo è un tipo di chiamata solo per chiedere informazioni. Invece la seconda richiesta di stato di elaborazione, RMA, richiede il numero CP. Che cos'è il numero CP? Il CP è il numero identificativo del caso specifico di assistenza tecnica. Gli installatori magari che stanno con LG ND Solution da qualche anno già sapranno che in passato il ticket aveva un numero identificativo a 5 cifre. Questo numero a 5 cifre è in corso di essere sostituito con una nuova tipologia di codice il cui formato è CP seguito da un trattino dalla data di apertura del ticket più 4 cifre aggiuntive. Ovviamente tutti i ticket che erano aperti con la vecchia modalità, quindi con il modulo che era online o con una semplice mail o telefonata, tutti i ticket ancora aperti sono in via di migrazione su questa piattaforma. Bene, adesso vi faccio vedere come effettuare la richiesta di guasto batterie e vi farò vedere anche perché questo nuovo strumento minimizza l'errore della creazione del ticket e soprattutto accelera notevolmente i tempi di attesa. Ovviamente io aprirò un ticket finto, quindi vado a mettere le mie informazioni personali dove c'è il nome dell'installatore, qui potete mettere il nome o la ditta, vado a inserire il numero di telefono. Per quanto riguarda il padrone di casa, ecco in questo caso io scriverei LG NG Solution a scopo dimostrativo ma ovviamente scrivete il nome del padrone di casa che non è obbligatorio ma molto spesso gli installatori si riferiscono ai propri casi con il nome del cliente mentre LG si riferisce ai propri casi con il numero identificativo. Quindi inserire tutti i tipi di informazione può sicuramente aiutare sia noi che voi nella risoluzione del caso e nelle comunicazioni. Inserite se volete la mail del padrone di casa, io qui vi metto l'indirizzo email a cui chiedere informazioni per quanto riguarda chiarimenti su uno specifico caso o per chiedere supporto per quanto riguarda l'apertura del ticket. Questa è la mail del nostro service quindi assistenza chiocciola lgresu.eu Per il telefono del cliente vi metto anche qui il numero di telefono del nostro call center. Bene, passo successivo inserite l'indirizzo di installazione. Se vi trovate sul posto potete ovviamente inserire l'indirizzo manualmente ma c'è questa funzione GPS se siete già sul posto di installazione vedrete che in pochi secondi vi rileva e vi compila i campi dell'indirizzo. Poi dovete autorizzare la notazione per l'utilizzo delle informazioni personali da parte dei clienti e poi sono necessarie altre informazioni sull'installazione e sull'unità che ha ricevuto il guasto. Quindi inserite la data di installazione ad esempio non so 6 agosto 2023 inserite la data in cui si è verificato il problema quindi ad esempio può essere il 17 ottobre del 2023 e qui si prega di inserire VOC che sta per voice of customer la voce del cliente cioè quello che vi ha spiegato il cliente telefonicamente. Allora dunque noi come ho già detto all'inizio del video consigliamo che l'apertura sia sempre effettuata dall'installatore. In ogni caso quello che sto cercando di dire è che nella descrizione bisognerebbe inserire più informazioni e più dettagli possibile quindi una descrizione magari completa potrebbe essere batteria che fischia sia da accesa sia da spenta. Oppure un altro tipo di descrizione potrebbe essere interruttore della batteria. Scatta Dopo 10 secondi E il led on resta acceso fisso. Quindi tutto quello che tutte le informazioni che riuscite a darci sui led sullo stato della batteria su quello che succede cercate di essere il più precisi e insomma discorsivi possibili perché appunto questo questo questa prima informazione è sicuramente molto utile per noi. Si passa quindi a inserire il modello della batteria non so diciamo che siamo con una 3 su 13 e a questo punto bisognerà inserire il numero seriale della batteria. Io ho qui una foto del QR code che vado a scannerizzare. Questa è una cosa molto interessante e molto utile di questa app perché vedete io cliccando qui e scannerizzando il QR code ho subito il seriale della batteria senza errori. Degli errori molto comuni sono quelli di aver inserito il seriale manualmente e quindi è un errore umano quello di poter magari scambiare qualche cifra o qualche lettera per cui se poi il seriale non corrisponde ovviamente lì si blocca si blocca tutto perché non riusciamo a capire di quale batteria si parla. Possiamo cliccare su controllo il modello per verificare che appunto abbiamo inserito un numero seriale che corrisponde al giusto modello della batteria. Bene si può si passa poi a selezionare il tipo di inverter io non so posso dire che ad esempio questo è un inverter della LG Energy Solution magari un SLH G1 060 e bisogna anche inserire il numero seriale dell'inverter anche qui ovviamente io ne utilizzo uno del nostro stock. Bene poi come sapete alcuni inverter hanno un display in cui mostrano il codice quindi l'ID dell'errore della batteria per altri inverter invece questo è possibile rilevarlo nell'app di monitoraggio quindi inserite anche l'errore che leggete sull'inverter il codice di errore vedete ci sono tutti i codici con la descrizione dell'errore. Nel caso non doveste avere accesso a questo codice appunto a questo identificativo dell'errore vedete che c'è una serie una lista di NA sta per not available quindi potete inserire qui il tipo di problema senza inserire il codice. Quindi ad esempio se la batteria è gonfia inserirete swelling se la batteria fischia inserirete rumore sì noise potete selezionare se la batteria è gonfia o no e poi bisogna caricare delle foto e magari anche un video ecco ad esempio se l'interruttore scatta oppure se volete farci vedere qual è il comportamento dei led è ovviamente molto utile anche un video. In ogni caso alcune foto sono necessarie e sono anche obbligatorie da caricare per l'apertura del ticket. Ecco le foto che vi chiediamo di caricare. In ogni caso potete caricare un qualsiasi tipo potete sia ovviamente cliccando sull'icona macchina fotografica fare delle foto o comunque potete caricare una qualsiasi foto dalla vostra libreria. Per quanto riguarda l'informazione di spedizione potete decidere se farlo inviare all'installatore o a casa del proprietario quindi non so in questo caso diciamo che vogliamo che arrivi all'installatore e per quanto riguarda l'indirizzo potete fare la stessa cosa di prima quindi o cercarlo con lo zip code che sarebbe il CAP o inserirlo manualmente oppure con il GPS. Ovviamente se siete a casa del cliente non siete nella vostra ditta di installatore e viceversa. Io qui utilizzo di nuovo la funzione GPS per velocizzare insomma questa apertura. Qui data di spedizione del desiderio qui purtroppo c'è un piccolo errore di traduzione sarebbe data di spedizione desiderata quindi potete qui selezionare una data che vi sta più comoda per quanto riguarda la spedizione della batteria nel caso appunto questa dovesse venire spedita e potete selezionare se necessaria o no la sponda idraulica e allo stesso modo potete selezionare la fascia oraria in cui vi è più comodo ricevere la batteria. Richieste particolari qui non so chiamare al numero oppure citofonare a oppure non so avvisare un giorno prima insomma richieste sulla spedizione. Se avete già visitato il cliente durante l'apertura del ticket o prima potete selezionare qui azione la data della visita che deve essere ovviamente antecedente alla data se avete già visitato il cliente e potete anche dire cosa avete fatto. E come ho detto prima adesso potete se volete premere su creazione di modulo in modo che il modulo verrà salvato ma non inviato. Questo perché? Perché magari può succedere che abbiate delle informazioni mancanti per cui per non ripetere tutto il processo da capo adesso vedete che ne ho due salvati quello di prima e quello di adesso posso aprire modificare quello che ho che vi ho appena fatto vedere posso inserire qui se necessario delle informazioni che magari prima non avevo quando è tutto pronto posso premere su presentazione del modulo e vedete che mi chiederà conferma e dopo qualche secondo il ticket sarà creato registrazione completata per cui questa segnalazione arriverà ai nostri colleghi del service potete leggere lo stato del vostro servizio nella seconda icona adesso vedete che c'è un 1 vuol dire che da questo profilo è stato creato un ticket in cui vedete qui lo sta potete aprirlo e vedere gli aggiornamenti in tempo reale ovviamente in questo momento vedete solo che c'è una richiesta e che c'è un first richiamare questo vuol dire che quando i colleghi del service vedranno che questo nuovo ticket è stato aperto di solito ci vuole comunque qualche giorno perché il volume di richieste giornaliere è veramente alto in ogni caso richiameranno o ricontatteranno l'installatore con i recapiti che avete lasciato nell'apertura del ticket bene questo era come aprire un ticket con GCP per informazioni aggiuntive posso dirvi che tutti i vecchi ticket ancora aperti sono comunque in corso di migrazione su questa nuova piattaforma sicuramente quelli con tutti i dati corretti sono stati già migrati se doveste avere qualche caso particolare da portarci alla nostra attenzione potete scrivere a me oppure potete scrivere ai contatti che vi ho lasciato precedentemente durante l'apertura quindi le mail e il numero dell'assistenza io vi ringrazio dell'attenzione e un saluto grazie a tutti